Ciao a tutti, oggi vi parlerò dell'olio di borragine. L'olio di borragine, questo è dell'erba vita, ma ne potete trovare di tantissime marche in commercio. È ottenuto dalle spremiture a freddo, si può utilizzare sia ad uso cosmetico, dunque esternamente, sia sul viso che sul corpo, ma anche internamente come integratore alimentare, perché è una fonte ricchissima di un acido grasso omega 6, che è l'acido gamma linolenico e va benissimo per la salute della nostra pelle, sia se soffriamo di dermatiti, ma anche di acne, psoriasi, dunque va bene per tutti i tipi di pelle, anche preciclo durante la menopausa, che magari può cambiare sia il pH della pelle, ma magari si possono vedere anche delle imperfezioni che non abbiamo mai avuto, per cui si può prendere come integratore, ma anche dare direttamente sul viso, perché comunque viene assorbito dalla nostra pelle e la mantiene idratata e soprattutto elastica l'olio, e può essere una protezione interna per il nostro corpo, perché comunque gli omega hanno un'azione antinfiammatoria, per cui è una protezione cardiovascolare, una protezione per le nostre arterie, per le nostre vene, per cui va a fare una sorta di pulizia, avere un'azione antinfiammatoria intracellulare, per cui va bene se abbiamo anche colesterolo alto, soffriamo anche di pressione un po' alta, oppure se abbiamo una predisposizione oppure ereditarietà a problemi cardiovascolari, dunque l'olio di borragine può essere un aiuto.